Sì, siamo per andare a 8.50 per la parola di fede, per la signora Issa di Uomo, sono soltanto con la MRE, con una gente, grazie a tutti i giorni, e a fare 8.50, con la parola di Fond Market, e in seguito, poi, arrivo già il comune di una offiziativa, dei segnali di un'altra. E' un'altra parte.